Ah, che bella la vita della prateria, vero signorina pecora? Ahahah, ma che voglio prendere in giro? Mamma mia, uuuuh, ok, ok, ci sono? Raccontiamo tutto? Sì, raccontiamo tutto. Sto in un altro villaggio, l'ennesimo villaggio che ho trovato, e il mio cavallino sta socializzando qua con questi due signorini. Uuuuh, allora, come vedete, sì, è un altro villaggio. Perché non sei tornato a casa MetalMavio, come avevi detto? Perché sono pazzo. Ma non sono pazzo perché non sono tornato a casa, ma vi farò vedere adesso perché sono pazzo. E non è perché non sono tornato a casa, è un motivo peggio, un motivo molto 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 peggio. Allora, stavo a portare il cavallo a casa con i cani, i cani come vedete non ci stanno, e vi sono ricordato di un intoppo, un piccolo intoppo, che adesso il nostro cavallo ci verrà a mostrare. Ecco qua, corriamo un po', facciamo un poco di sprinting. Ecco qua, vedete? Sto villaggio è tutto nuovo, non l'ho proprio guardato, ho solo parcheggiato il cavallo, perché è qua che mi sono ricordato dell'oceano, che nel caso alcuni di voi non lo sapessero, il cavallo puoi prendere il blocco, grazie, mille, grazie, bravissimo. Nel caso alcuni di voi non lo sapessero, l'oceano è questa massa d'acqua gigante, no? Enorme, che divide vari continenti, ecco tipo sta cosa qua, questa cosa qua si chiama oceano, no? E voi direte, ma MetalMavio lo puoi attraversare con una barca, uno strumento che gli umani conoscono da millenni. Eh, sì, però, questo è il problema, lui, questo qua, perché i cani li puoi mettere nella barca, ma lui no. E lui, che cosa? E lui, che cosa? E lui, che cosa? E lui, che cosa? E allora, qual è il modo migliore per collegare un posto su un altro con Minecraft? Ovviamente una railway station, una stazione ferroviaria, ma ci sta sempre il solito problema L'oceano, che fai, che non fai Allora mi sono armato di santa pazienza, di podcast da sentire e di musica varia e di film da mettere in sottofondo E ho creato questo Che non so nemmeno se ci passa il cavallo, ma l'ho creato e sono contentissimo E vi farò pure vedere, e noi iniziamo dalla parte brutta pure, diciamo Perché c'è stato un punto nel quale mi sono stufato Lo stavo a fare proprio bello bello, poi mi sono rotto le scatole, semplicemente Questo è, fatemi prendere ste due bistecchelle, che il cavallo non c'ha da magna, ma io no È la mia opera magna Ecco appunto, qua già non ci passo, già abbiamo riscontrato un bug nel sistema, un glitk Devo allargare di due questi, perché il cavallo così non ci arriva Avevo fatto una corsia preferenziale apposta, ma l'avevo fatta solo per la mia testa, a quanto pare il cavallo Non può passarci me dal bavio, devi scavare, devi aggiustare Ok, non ho nemmeno preso sto oro, sto ferro, perché veramente non mi è fregato più di nulla Prendevo solo cobblestone e la mettevo a cuoce Cobblestone e la mettevo a cuoce Cobblestone e la mettevo a cuoce Non so quanti stack di cobblestone ho cotto, probabilmente due miliardi Quante torce ho fatto? Probabilmente otto milioni Però, cioè, che poi ste torce le dovrò togliere se ci voglio mettere la ferrovia Perché la ferrovia va fatta passare al centro, se no fa schifo se la fai passare di lato Fa schifo, e la devi mettere al centro E io quindi l'ho messa qua Allora, innanzitutto ci stanno delle cose molto fighe, molto molto fighe Tipo questa qua, vi direte, è l'oceano No, cari miei, questa è una grotta subacquea Cioè è una grotta proprio piena, piena, piena d'acqua Vedete? Stanno pure le alghette Che mi fa una paura tremenda, terribile Quindi mi rifinco dentro E ci ho messo pure ste cose per simboleggiare il fatto che è un posto un po' particolare Per fare suggestione Poi, abbiamo un canyon subacqueo Sottacqueo, subacqueo Che ho reso una, come si dice, un'opera d'arte Ecco, vedi, da esposizione, si vedono tutte le cose che abbiamo in testa E come vedete d'acqua sopra è tanta Su circa, forse 30 o 40 blocchi d'acqua Non lo so Poi qua ho continuato a fare gli stone bricks Perché ci stava ancora l'oceano Quindi ho detto, deve essere bella sta parte Punto, tanto a dormire Ci posso pensare un altro giorno Poi qua di nuovo oceano E più di quel che sembra la parte dell'oceano Qua stiamo proprio sul fondo dell'oceano E là, vedi Grazie a tutti Grazie a tutti Finisce in mezzo all'acqua Quindi io parcheggio sto cavallo tra le mucche Perché tutta questa cosa l'ho fatta per te Senti, figlio mio Mi dovresti essere grato mille volte Dovresti essere tu a portare carote a me Per tutta la tua vita Qua sta, qua c'è altro vetro Che comunque non mi serve Ma diciamo che prima di partire Ho abbondato un po' E qua ci stanno altri stone bricks E non erano solo ste due file che ho usato Non erano solo quelle Ci sta poi un'altra cosa Che ho trovato qua sotto E ve la faccio vedere subito Scavando tipo verso questa altezza E poi vi faccio vedere Ci stanno dei blocchi di netherrack E io mi sono un po' spaventatello Perché ho detto Perché c'è la netherrack e magma blocks Qui sotto terra Allora, questo sembra Però non so se è Eh sì, lo è Ok, perfetto Lo è, lo è È uno dei portali Come quelli che appaiono nell'overworld Ecco, infatti Qua stanno ste pinkie pallini Nooo, lo c'è Nooo, lo c'è Non voglio morire qua sotto Ma sai che ti dico? Ma fatevi Perché non c'ho lo scudo in mano? Ma aspetta, ma quella era La polvere di spawner Ci sta uno spawner Ci sta uno spawner Hello? Spawner? Aspettate Fatevi un attimo Fa fuori tutti Fatemi Metto un po' di torques Ok, qua è una grotta normale Ok, ok, va bene Però quelli hanno fatto La nuvoletta di mob che spawnano Ma uno spawner si sarebbe visto se Oh no, potrebbe stare qua dietro Qua dentro No, perché sarebbe troppo grosso E la cesta Fa schifo Quindi la potevano pure fa esplode Però Vedete, qua ho dovuto fare una copertura Che qua la stavo a fa' Io stavo a scavo qua Ho detto, vabbè L'ennesima grotta E qua ho trovato sta netherrack Poi ho fatto Mmm Ignorerò questa divertente situazione E continuerò a scavare E ad andare avanti Perché magari la faccio vedere in video Ok, però Ma l'abbiamo vista Abbiamo visto che È una cosa che fa molto schifo E non so perché sto camminando qua dentro Anche perché da solo È abbastanza brutto starci Perché è un tunnel infinito E non ci sta nessuno Solo io e litri e litri d'acqua sopra E di tonnellate di vetro Comunque Non so se molti di voi lo sanno Però Chi magari ha seguito altre serie Oppure sa un po' di me Saprà che io In ogni singolo mondo Server Cosa che faccio Ci deve stare qualcosa sotterranea Qualcosa che collega Qualcosa con la miniera Qualcosa con il minecart Qualcosa di Terribilmente inutile Come questo Perché È inutile Però è figo Cioè È un collegamento assurdo Una cosa Che porca miseria Ci potrei formare uno stato Sopra Non mi metto ora Nemmeno da andare in giro di notte E di mangiarmi le bacche Oh Mi ficco dentro casa Ah C'ho un barilozzo pieno di Qual era? Questo qua pieno di picconi ancora Perché Meglio abbondare Quante fiscere Come diceva Un vecchio detto Inglese E direi Che mi faccio Un po' di ninnismo Intanto Ne approfitto Ah Perché Direi Ma Non vorrei Essere un po' Presuntuoso Ma direi D'essermelo Leggerissimamente Meritato Dopo tutto Quello Che ho fatto Per il signor Cavallo Che Magari Voi direte Ma a me Dalmadio Non te l'ha detto Nessuno Di farlo E io Vi rispondo No Me l'ha detto Un impulso Vago Del mio cervello Tantale 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il villaggio è qualcosa di comodo da avere, tipo se ci sta qualche scienziato utile che ti serve, qualche villager potente? E Metal Mafio risponde, no, non ho controllato niente perché sono un cretino, un bel babbeo. Però va bene, controlliamo adesso perché fa sempre bene visualizzare questa situazione. Ecco, avrei potuto fare tipo 30 video, ma forse pure di più, nei quali scavavo tutto questo e caricarvelo tutto quanto. Tipo ogni video, 15 minuti circa, di me, a velocità doppia, magari, se mi sentivo gentile, di me che scavo e faccio sto tunnel. E non dico nemmeno niente. Perché l'unica cosa che c'era in mente era, tipo, musica, gente che mi parlava nelle orecchie, e film. Che non ho nemmeno visto. Quindi se voi mi chiedete che film hai visto, io non ve li saprei di perché sono stato qua a scavare. Era solo compagnia quei film. E quindi, ora, arriviamo al punto sodo del... Ma questo villaggio è buono o no, Madalma? Ecco, lo stiamo per scoprire. Io non lo so, non ho toccato nessun villager. A noi un villager dovrebbe servire. Ed è il... O cartografo, o chierico, mi pare. Ok, il chierico ci sta. Questo non so se è quello che ci arriva a vendere la mappa, ma probabilmente no. E ci manca il... Ma questo ha fatto le pozze, oh! Ma il pozio non è pazzo, so io! E ci serve un cartografer, che come vedo da questo simpatico villaggio, qua, su tutti i puntati, su tutti i puntati, vedi? Questo vuole patate e le carote. Questo qua vuole patate e le carote. Questo che ha un fabbro, forse. Vediamo. Mason. Ah, questo è uno di quelli che fa la casa. Vedete, c'ha la casa di... Terracotta, Girla e Sgrotoli. Ok. Figo, figo, figo. Ma manco tanto, perché non ci sta il cartografer. Sta un altro contadino. E basta. Ci sta un golem, però. Ah no, aspetta, è grosso come villaggio. Ma... Ha fatto la risata a una strega, o sbaglio? È grosso come villaggio, però sono tutti i contadini. Ma... Questo ha pure piantato. Che fregatura! Potrei aver fatto una stupidà. Però vabbè. Visto che sono molti villager, significa che... Se ci sto io qua intorno, magari, dopo aver difeso bene il villaggio e averlo reso... Ecco, appunto. Come quello che sta succedendo qua. Ci saranno questi piccoli villagers. Fatti murare in casa. Lo voglio murare in una casa dove non ci sta nulla. Così lui non diventa niente. E ecco. Così posso costruire, se si può in questa versione, il tavolo da cartografer. E glielo schiaffo davanti. Così lui diventa un cartografer. Ora mi costringe a fare una cosa... Ma dai, ma fermati su, per favore. Entra in una casa. Se no mi diventi un cretino pure tu. Do sta? Ma guardalo, come... Come svirgo la via. E mi fa pure di no con la capoccia, hai capito? Perché questo, secondo me andando in giro, cresce. Arriva qua e diventa un altro farmer. E io non la voglio. Già non ho capito come funziona tutta questa evoluzione dei villager che hanno fatto ultimamente. Quei lavori, le professioni, tutto quanto. Già non l'ho capito molto bene. Però, mettiamoci pure... Che ne so. Tutti che diventano uguali? Non mi piace questa situazione. Guarda, va sotto gli alberi. Ma che stai fa? Ma va... Dove va? Dove va? Ma vatta a ficcare in una casa. Ma lui... Grazie. Grazie.